Non solo ha proposto ma ha preteso che si apre un tavolo, uno stop. Delle due l'una, visto il sorprendente esito che oggi ha avuto la riunione annunciata sabato scorso ai portuali. O i sindacalisti del Sulle e il prefetto Michele Di Bari si sono capiti male dopo l'incontro che quest'ultimo aveva avuto poco prima con i delegati di MCT, oppure nel fine settimana è mutata la disponibilità dell'azienda. Questa mattina infatti nessun incontro uno stop in prefettura. Nessun tavolo unico per l'avvertenza dei 400 lavoratori che il gestore del porto vuole porre fuori organico. Al palazzo di governo si sono presentati solo gli organizzatori della protesta che va avanti da mercoledì scorso, ai quali è stato annunciato il più beffardo dei contrordine. Se ne riparla il 13 marzo perché quella sarà la data in cui il terminalista presenterebbe il nuovo piano dell'esubero da discutere con le controparti. E nel frattempo non era un abbaglio quello di sabato, visto che anche la parlamentare 5 Stelle Federica Tieni stamattina ha dato per risolutivo il tipo di incontro. Ai sindacalisti del Sul non è rimasto altro da fare che tornare nel piazzale dove prosegue il concentramento, preparando i lavoratori a queste altre giornate di passione. Gli operai proseguono lo sciopero, indipendentemente dallo stucchevole ping pong sul futuro lavorativo nel primo porto italiano per traffico di container. Agostino Pantano per la Cineus 24